Se guardiamo la città, la vostra visione è esattamente paragonabile ad un ombelico e il vostro ombelico va da Piazza della Resistenza a Piazza Petazzi e finisce in Piazza della Repubblica e se volessi usare una metafora che spesso viene etichettata ai commercianti voi guardate solo il vostro articello ma la città è composta anche da altre zone perché se non vi siete accorti noi viviamo una città che per necessità è stata costruita attorno alle fabbriche, fabbriche che si erano insediate nei primi del Novecento, è tagliata in due dalla ferrovia ed è una città che ha come caratteristica il fatto di essere policentrica. Se stiamo al vostro operato non ci resta che denunciare la svendita del patrimonio come le farmacie comunali e l'impoverimento del patrimonio immobiliare, l'abbandono di quello abitativo senza politiche di investimento ma giocando ai tappabuchi. La vostra incapacità ci ha portato ad avere un patrimonio ormai solo svendibile, allora la domanda è cosa pensate per il futuro, per il futuro della città e per i servizi? Una cosa è certa, se usiamo la vostra teoria basta l'aumento delle tasse e qui bisognerebbe andare a riprendere le vostre promesse nel 2017, fare qualche multa e recuperare risorse dalla vendita di loculi e tasse sui defunti e funerali che chiaramente prima non c'erano. E a proposito di tasse, proprio oggi qualche collega è venuto a trovarmi e mi ha detto di aver ricevuto in questi giorni da Abaco, che è l'ente preposto alla discussione coatta per il Comune, e sto parlando di colleghi commercianti che in questi mesi non hanno guadagnato nulla, di colleghi che non sanno concretamente quale sarà il futuro delle loro attività. Allora mi chiedo, dove è finita la vostra attenzione per il commercio? Questo è il vostro modo di aiutare il tessuto economico? Così riavvivate il commercio di vicinato, aumentando le tasse?